I turisti vogliono vedere la Sindone, ma per sapere tutto, ma proprio tutto sulla Sindone, bisogna prima andare al museo. Tutti i misteri della Sindone sono raccontati qui. Mi raccomando, non si tocca nulla, non si parla, non si respira e si cammina in punta dei piedi. Paura, eh? Ma no, scherzo! Non mancano i pezzi unici. C'è la macchina fotografica con la quale è scattata la prima incredibile foto della Sindone. Scusi, ma dov'è la Sindone? Silenzio! Ecco le lastre fotografiche di inizio novecento, tutte foto fondamentali per la scienza che studia la Sindone. E poi la preziosa cassa con la quale è arrivata a Torino nel 1578. Scusi, scusi, ma la Sindone dov'è? Ho detto silenzio! Ssss! Ci sono i documenti originali che ne raccontano la storia fin dall'inizio. Ma la Sindone dov'è? Silenzio! Ssss! E c'è l'ultima cassetta, quella che ha protetto la Sindone dall'incendio del 1997. Sì, va bene, ma la Sindone? Non c'è! Oh no, la normata presa, rapita! Aiuto! Polizia! La Sindone è al sicuro. Ma dov'è? E' qui? No, qui? O qui? Aia! È in Duomo! È sempre stata in Duomo, a cinque minuti da qui. E noi ora andiamo a vederla! Ciao, ciao, ciao! E tu non vai? Aspettatemi! E tu non vai? Aspettati!